Buonasera, sono a parlarvi di nuovo come rappresentante provinciale del nuovo partito socialista del problema su massa della residenza sociale di Via delle Tortore. Mi sono preso un impegno, quello di una volta al mese almeno, di venirvene a parlare. Mi dispiace se sarò noioso, qualcuno diventerò antipatico, ma me la sono presa a cuore e fino a che non vedrò risolversi questa situazione, per quel poco che serva la mia parola, io ogni mese sarò a dirvi come si sta evolvendo la problematica e se la stanno risolvendo. È da circa sette anni, ricordo, che in Via delle Tortore, in questa residenza sociale, vi sono in media 18 persone, tranne ultimamente, che si sono ridotti in numeri, ma proprio ultimamente, anche dopo il nostro intervento, forse abbiamo sollecitato, siamo riusciti a far quello almeno, vivono 18 persone in due stanze, con due bagni, cinque stanze anzi, però due soli bagni per uomini e per donne, senza lavabi, senza cucina, per lavare le vettovaglie, quando finiscono di pranzare, devono andare in bagno a farlo. Ecco, questa è la situazione in cui vivono queste famiglie, in maniera non disagiata di più, vergognosa direi, perché non è concepibile che in un capoluogo di provincia come Massa, da sette anni si faccia vivere le persone in queste situazioni, senza trovare una soluzione diversa. Diversa. Probabilmente, anzi, mi stanno dicendo purtroppo, che almeno per quanto riguarda, e colmo, gli italiani, questi sono anche ulteriormente svantaggiati rispetto ai migranti, perché a questi, nel frattempo, in questi sette anni, gli hanno trovato una soluzione alternativa, gli hanno trovato degli apparelli, non voglio entrare nel merito, ma è un dato di fatto, gli hanno trovato degli appartamenti dove andare a risiedere, mentre questi italiani da sette anni sono ancora lì, con famiglia completa e figli. Stamani mattina, 14 aprile, mi dicono che era prevista una manifestazione, manifestazione buona, nel senso buono, per una visita con i giornalisti, con il fotografo, per la consegna delle uova di Pasqua, però sarebbe saltata. Il motivo non si sa, probabilmente a pensare male, diceva qualcuno, ci si azzecca, si saranno vergognati di far venire, poi ci avranno ripensato, di far venire giornalisti e fotografi, perché sicuramente i residenti gli avrebbero detto di visitare la struttura, così da rendere dotta alla popolazione, in che situazione il Comune di Massa continua a far vivere queste persone. Ecco, io mi auguro con questo mio intervento e con quelli futuri, di sollecitare ulteriormente per orare questa situazione, favorevolmente per questa situazione, perché è indegno comportarsi in questa maniera. Buona Pasqua a tutti, ci rivediamo il prossimo mese se non l'avranno risolto. Grazie. 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 Grazie.